E' ancora in studio la proposta sulla poligamia, quando un poligamo vuole convertirsi alla Chiesa, vuole diventare cristiano. Attualmente la Chiesa chiede al poligamo convertito che scelga tra le moglie una donna per lui. Ma la situazione per noi è il fatto che quelle altre hanno sempre lui come il marito, lo sposo. E quindi non si riposano più perché il matrimonio da noi non è fatto per essere sciolto. Lui continua ad essere il marito, allora questo pone comunque dei problemi. E' delicato, comunque non si può rifiutare la fede, ma spesso succede che quella donna che lui sceglie per sposarsi con lei non vuole sposarsi in Chiesa, non vuole convertirsi. Eppure è quello che lui ha scelto come la sua moglie, come fare, è in studio. Eppure è quello che lui ha scelto come la sua moglie.